Ok, ufficialmente il regolamento è stato inserito correttamente nel Discord, è il regolamento completo. Per raggiungermi su Discord, leggetto qua sotto, video velocissimo, scusate se oggi non ho fatto video, diciamo, dedicati a No Steal puramente, ma solo extra. Da domani, dalla 14.30, potrete essere gilgati. Le regole sono queste, non accetto nessun altro tipo di, ma io questo non ce l'ho, va bene lo stesso. No, le regole sono quelle, ma tutte completamente rispettate al 100%, non manco a 99.9. Quindi non fatemi manco richieste perché magari manco vi rispondono, nel senso già oggi è la trentesima persona che mi dice Eh ma io ho ancora un RPG, mi aspetti? Forse sì, nel senso se magari la gilda rimane con i posti, volentieri, però le regole sono quelle ragazzi. Comunque la gilda poi sarà ampliata, se facciamo esperienze di gilda, se mi cattolino fanno sempre più schifo, vaffanculo. A parte che sembra che sono sporchi. Ma guarda, sembra che c'è capire i sporchissi. Quello della doccia prima. Visto? Ah mo? No, dici? Ok, basta. Comunque credo che avete capito tutti quanti. Vediamo se scappare quel trick con l'occhio. Aspetta, ci provo. Perché hai visto la live, capirà. Ecco. Avete visto? Così sono i veri talenti. Basta.